5 Stelle non ci sarà troppe divisioni interne, Beppe Grillo non ha concesso l'utilizzo del simbolo. L'inviato è Roberto Chinzeri. Io ho provato con alcuni parlamentari a vedere se riuscivamo a trovare un punto in comune, a mettere d'accordo un po' queste fazioni. Ci abbiamo provato in realtà una lista, l'abbiamo che costituita, ma è stato troppo poco, troppo tardi per convincere Beppe a tornare sui propri passi, ma lui me l'aveva detto, è troppo tardi, non si possono fare in due giorni le cose che non si è riuscito o non mi hai dimostrato di riuscire a fare in sei mesi. Ora sono più solo, si rammarica il sindaco. Qui vicino Cagliari il Movimento 5 Stelle ha il 40% dei voti. In tutta la Sardegna le politiche ha sfiorato il 30, ora è fuori. Scadeva ieri il termine per la presentazione dei simboli, 34, i contrassegni sul tavolo, manca il Movimento. Le correnti anticomai dei partiti hanno colpito. Le liste presentate erano in profondo disaccordo, scrive Grillo sul blog, non siamo a caccia di poltone, la partecipazione non è obbligatoria. Purtroppo nel metodo non siamo riusciti a concretizzare quello che era l'obiettivo perché semplicemente non ci siamo incontrati, non siamo riusciti a creare quell'unità che era necessaria poi per presentarsi alle elezioni.